Anche se al termine della stagione balneare in questo caso è dopo sottolineare il motto meglio tardi che mai la regione Campania ha concesso e disposto l'impegno di spesa della somma di 500 mila euro in favore del comune di Agropoli per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di Posidonia spiaggiata dal litorale. Il contributo regionale sarà erogato in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione della spesa da parte dell'ente agropolese alla direzione generale. Stante l'obbligatorietà di utilizzare le predette somme esclusivamente per le finalità così come previste dunque l'ente agropolese dovrà anticipare la spesa di 500 mila euro per la rimozione della Posidonia spiaggiata e poi rendicontare all'ente regionale il tutto. solo in quel momento otterrà il finanziamento stabilito. Una operazione di rilievo che vedrà finalmente la rimozione della montagna di alghe che negli anni è stata accumulata presso la storica spiaggetta della Marina e da qualche anno anche presso la spiaggia dell'Idoazzurro. È bene ricordare inoltre che se tutto ciò sarà possibile è perché nel mese di maggio è stato approvato un emendamento in senato grazie al quale la Posidonia spiaggiata verrà inclusa tra il materiale naturale non più conferibile in discarica come rifiuto speciale. L'ente agropolese con il finanziamento della regione campania potrebbe eliminare temporaneamente il problema visto che ogni anno si ritrova a fare i conti con i litorali colmi di alghe dunque sarebbe il caso di lavorare anche ad un progetto ecosostenibile che possa trasformare questa pianta in risorsa. Lo stesso ente agropolese potrebbe fare da comune capofila per un progetto di recupero della Posidonia spiaggiata e portare il fogliame in un sito di stoccaggio per la vagliatura, il lavaggio e il recupero di sabbia dalle foglie di Posidonia. Il prodotto finale potrebbe essere immesso sul mercato della bioedilizia e potrebbe essere utilizzato come ammendante organico visti i tanti terreni agricoli presenti nel comune agropolese. Ma c'è tempo fino al 2022 perché poi l'emendamento scade a dicembre. Si auspica per i litorali di Agropoli e del Cilento che questo fondamentale vegetale marino sia valorizzato come risorsa sia per l'ecosistema del litorale che per molti altri scopi come per esempio l'agricoltura e l'economia circolare.